E salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, location diversa, di solito io qui ci registro i video speciali Diciamo che quello di oggi è un vlog, un vlog dove però tratto di un social network e essendo comunque un canale della tecnologia Io voglio trattare anche di queste cose, di cosa parliamo oggi? Sara, Sara è il social network che purtroppo, visto che noi in Italia non ci facciamo mancare niente, è spopolato nell'ultimo periodo Ora, voi dovete sapere che io a prescindere detesto tutti i social network che consentono l'anonimato Nel senso, ovviamente anche su Facebook, su Youtube uno può essere anonimo Però creare un social network che già in partenza incoraggia il contattare una determinata persona anonimamente Secondo me ha perso in partenza, o meno io non familiarizzo con questo concetto Però siccome, come mi hanno sempre detto i miei genitori, prima di criticare una cosa la devi conoscere Mi sono detto, ok, ho aperto il mio profilo, Sara E ho chiesto su Instagram di giudicarmi Cioè di dirmi quello che volevate, perché tanto eravate nell'anonimato più completo E quindi, non avete lasciato i centinaia, centinaia se non migliaia Ho estrapolato quelli più interessanti Direi di cominciare Perfetto, allora questo è stato il primissimo commento che ho ricevuto Sei troppo simpatico Onesto, grazie Sei molto bravo, ti stimo moltissimo e sogno di poterti incontrare un giorno Ti consiglio però di rispondere di più nei vari social e dare un po' di più di attenzione ai suoi fan Allora, innanzitutto ti ringrazio non solo per i complimenti ma per il fatto che sei stato il primo che mi ha rivolto questa critica In modo educato e non arrogante E ci sta Io in realtà ragazzi su Instagram rispondo quando mi capita ai primi direct della lista Ma siete in troppi, siete in così tanti e quindi io non riesco purtroppo a rispondere a tutti Sei il mio youtuber preferito non posso fare a meno di guardare i tuoi video, sei grande Continua così, un saluto da Bologna Grazie mille, un saluto da Milano Hai un fantastico canale ma nella fine del video sembri una persona che se la tiri troppo Ma lo so, infatti è un po' quello in realtà il senso L'outro deve essere un qualcosa che ti invoglia a continuare a guardare i video di quello youtuber Se la mia outro fosse stata così Voi siete stati interessati a continuare o no? Non credo, quindi tra virgolette è voluta quella cosa Persona giovane e matura, youtuber simpatico che si dipende bene in tutto Continua così Andrea P.S. ma il canale in inglese? Allora grazie mille caro innanzitutto per i complimenti Ovviamente il canale in inglese io l'ho aperto perché ero convinto di fare tutto Ma non ho tempo quindi è morto Perché per chi non lo sapesse sì ho anche un canale in inglese È morto perché non ho tempo di portarlo avanti Però non è detta l'ultima parola perché forse tra un po' riuscirò a resuscitare pure lui Sei bravissimo a fare video e continua così Grazie mille Scherzavo, comprati un dizionario Oh, attenzione a questi Sei bellissimo Andrea Sei fantastico Hai un bel canale E sei carino Sei bellissimo Ti adoro Dovresti fare il modello Ecco, per esempio Sara non mi sembra è esattamente il social network adatto per flirtare Perché io non so chi siete Non so i nomi di queste ragazze Dando per scontato effettivamente che siano ragazze Se lo spero Ma sì, è ovvio che sono ragazze Figurati se sono maschi Ciao, sono Edoardo e volevo dirti che sei un figo della madonna Hello darkness my old friend Appunto Secondo me sei un ragazzo bravo e competente Si vede che sei intelligente e non ho critiche da farti Un bacione, Marty Ti adoro davvero tanto Non solo per quello che fai Ma anche perché sembri un ragazzo molto colto e sei davvero intelligente Sei anche un bellissimo ragazzo Detto da una delle tue tre iscritte ragazze Sì, purtroppo la mia utenza femminile non è molto alta Grazie che me l'hai ricordato Rigiriamo il coltello nella piaga Fai dei video super interessanti Inoltre sei molto carino e sembri simpatico Mi piacerebbe tanto conoscerti Una ragazza La persona migliore che io segua Mi ha insegnato a vedere il mondo della tecnologia In modo migliore Ad avere molto più riguardo per la mia attrezzatura Oh, bravissime che almeno voi lo avete specificato Cioè l'ultima in realtà non ha specificato di essere una ragazza Ma queste emoticons non esiste un maschio che le utilizzi Quindi ok Ecco, vedete qual è un altro problema? Che molto spesso quando uno realizza questi video in cui legge passivamente tutti i commenti Sia le critiche che tutti i complimenti Poi molti nei commenti si prendono male perché pensano che sia un modo che lo youtuber usa per tirarsela Io ho letto apposta tutti questi complimenti che mi sono stati fatti Perché adesso sono sicuro che qualcuno di voi scriverà commenti del tipo Guarda questo come se la tira leggendo i commenti di Sara Ma i commenti non li ho fatti, io li avete fatti voi Ovviamente c'è da essere felici se la tua fanbase principalmente pensa a questo di te E quindi sono ben felice ogni tanto di condividere anche questi complimenti Dai dai che adesso riequilibriamo il tutto con Andrea la tua sigla è bella Solo che è un po' triste secondo me Magari potresti trovare una nuova canzone No no puoi dirlo tranquillamente che la mia sigla fa cagare Oh guardate questo adesso, questo è un altro esempio Primo commento Ti vanti tantissimo secondo i miei gusti Ma proprio tanto 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 Secondo commento Andrea sei un ragazzo fantastico, sembri molto simpatico e che non si dà le arie Oh 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 Due iscritti che la pensano in modo completamente opposto su un lato della mia persona Com'è possibile? Pure hanno guardato gli stessi video Forse perché io non condivido abbastanza aspetti della mia vita privata affinché voi possiate farvi un'idea del mio vero carattere Quindi queste cose in realtà ve le create voi nella testa Ci stanno video in cui il mio personaggio è più arrogante Ci sono video invece dove bisogna essere seri e umili YouTube è preferito, cambia intro e poi sei perfetto Cazzo ma proprio non vi piace sta intro, infatti non piace manco a me Penso che tu sia molto simpatico nel tuo lavoro Non sembra il tipo che se la tira? E diccelo che sei uno sponsor di Apple Sì infatti Tim Cook mi paga ogni settimana Questo è il fenomeno Dai fai un video per il Geal Gealbrack Per iOS 11 Madonna per una cosa che ti chiedo ti scrivo su Instagram non mi rispondi Tuoi video lo fai solo sui vecchi cellulari le beta non le fai più e dai Per favore Che ti chiedo anche se sono anonimo fallo che palle voglio il traditaccio sull'iPhone 6 ma non so come si fa Dai per favore io ti metto anche come notifica appena metti un video Entro subito per favore fallo per i tuoi fan avrai tante visualizzazioni Già peccato che non esiste il jailbrack di iOS 11 Non te lo posso tirare fuori dal cilindro E poi se vuoi che ti dica le novità della beta 8 te la dico Niente Per me sei solo un figlio di papà viziato Non solo viziato con due Z ci tengo a specificare Ma in più mio cugino con 3G ha l'iPhone 8 Solo che non ci posso fare un video sopra perché mi ha detto che l'ho perso Però ce l'ha Fatti crescere la barba Mangia Secondo me sei un bel po' arrogante e presuntuoso Io percepisco questo dai tuoi video In realtà tu lo percepisci solo nei video in cui mi rivolgo agli haters Perché gli haters sono persone che non capiscono di base E quindi tu le cose gliele spieghi una volta gliela spieghi due gliela spieghi tre Quando non capiscono ti diverti a sfotterli facendo la parte dell'arrogante Loro non colgono l'ironia che c'è sotto e si triggerano si prendono male A parte gli scherzi questo commento non l'ho messo perché è di una ragazza Ma perché mi ha fatto veramente sorridere Cioè è molto profondo Giudizio sulla tua persona Sei professionale, preparato e fregno Vabbè qua cadiamo un po', risaliamo un po' dalla profondità del commento ma ci sta A parte tutto amo il modo in cui ci porti video e la voglia e la passione che ci metti per farli Sono entrata nel mondo Apple grazie a te e ti devo molto Sei un esempio per molti di noi Sono una ragazza con la passione dell'informatica I computer ormai fanno parte della mia vita e ne sono una parte fondamentale E essendo una ragazza è strano perché le ragazze con la mia passione e la mia età sono rare da trovare Giustissimo Per questo mi sono creata per anni una maschera per nascondere la vera me E per sembrare come le altre Poi un giorno guardando video su YouTube scoprì il tuo canale Ho cominciato a seguire ogni tuo video e grazie a te ho capito che non dovevo nascondere la vera me E che dovrei togliere quella maschera E così feci Non sei stato l'unico a darmi questa spinta Mi hanno aiutato anche Blink46 e Tom Sardware Molto probabilmente se non vi avessi conosciuto avrei ancora addosso quella maschera Ma per fortuna non è così Ti ringrazio col cuore per avermi aiutata senza di te non avrei avuto il coraggio Io sono veramente felice di questi commenti Mi è piaciuta molto la metafora della maschera Ed è quello che ogni YouTuber vorrebbe Cioè riuscire a influenzare e condizionare il proprio pubblico in positivo Quindi grazie veramente di cuore Vedete che non sono sempre arrogante Dipende dal tipo di commento che ricevo Ripeto anche in questo video se volete io sto mettendo una specie di maschera Cioè sto diventando un arrogante per dimostrarvi come bisogna trattare queste persone anonime Che pensano di poter giudicare un'altra persona senza però esporsi È tutto una finzione come lo è anche la maggior parte delle critiche lasciate da anonimi Posso farti una domanda? Certo Non ho mai mangiato nessuno tranquillo Porti sempre i pantaloni lunghi anche in estate Perché? Perché ho gli pantaloni corti Molto semplice Modifichi troppo la tua voce nei video Una leggera alterazione per rendere la voce più profonda ci sta Ma te esageri Io non ho mai fatto audio editing La mia voce è esattamente questa anche in vita reale L'unica cosa che faccio è alzarla un pochettino perché il microfono sta lontano Ma la mia voce è questa Quindi ragazzi io spero che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto Fatemi sapere cosa ne pensate voi di Sara qui sotto nei commenti Se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su Visto che è un video un po' particolare se invece non vi è piaciuto pollice in giù Seguitemi su tutti i miei social network seri in particolare Instagram Il link ve lo lascio qua in descrizione Cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video Invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale Se lo fate e siete dei grandi io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo in un prossimo video Aspetta È imbarazzante come cosa Perché devo proprio fare Sì perché io non ho piaciuto Eh no infatti perché se no poi mia madre mi caccia di casa 3, 2, 1 Sì perché io non ho piaciuto 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 Sì perché io non ho piaciuto